Dieci anni fa io sono rimasto su una sedia a rotelle, durante un viaggio in America mi hanno sparato per rubarmi un'auto presa in affitto, era un viaggio di laurea, non avevo fatto nulla e grazie alle possibilità familiari abbiamo costruito questo catamarano, il primo al mondo senza barriere architettoniche. Abbiamo pensato che se si può realizzare una barca senza barriere si può realizzare una città dove una mamma con un passeggino si muove meglio, una persona anziana anche e la persona disabile non incontra delle difficoltà. A raccontare questa storia accaduta circa dieci anni fa e Andrea Stella, vicentino di 34 anni, la sorte gli ha riservato un terribile incidente ma quelle pallottole hanno fatto nascere un altro ragazzo che non ha mollato se non negli ormeggi per navigare in mare aperto con un catamarano speciale dove non ci sono barriere architettoniche per lui e per quanti come lui costretti sulla sedia a rotelle o con altri handicap. Un messaggio rivolto anche agli amministratori sensibili come il presidente della provincia di Pescara Guerino Testa e l'assessore comunale Carla Panzino, amministratori impegnati ad abbattere gli ostacoli perché la città sia davvero vivibile e fruibile da tutti. Ogni giorno un gruppo di persone disabili sarà ospitato a bordo dello Spirito di Stella con i loro accompagnatori, quella alla Marina Porto di Pescara, la quarta tappa del tour velico Spirito Libero. È partito il primo maggio da Iesolo, arriviamo il 10 ottobre a Genova, nove porti d'Italia in cui per 70 giornate ospiteremo a bordo circa 600 persone. Lo spirito di Stella, Andrea Stella, è questo, non sempre, anzi mai è possibile sceglierla la propria vita. L'importante è coglierne il senso, qualunque esso sia, e viverlo fino in fondo. Andrea forse lo ha trovato ma non si stanca di cercare e navigare. Stiamo dando la possibilità soprattutto alle persone che non hanno mai provato. Questa è un'esperienza di una giornata, una giornata in mano in completa libertà e autonomia per capire che la vita va avanti, che le barriere molte volte sono anche nella nostra testa e noi dobbiamo vincerle. E per far capire a chi non è disabile come si può progettare una città a misura di tutti e come attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche si crei veramente cultura e integrazione.